eccoci ben trovati a un altro episodio mondo A di boss world praticamente è un qua c'è solo una stella da prendere ma mi dà l'idea che la cosa non sarà alquanto facile bene ecco ancora sto babbione qui no ok andiamo a prendere un altro amico uno ce l'ha ammazzato bene ciao bello ok stella super meritata andiamole tutte le monetine facciamo finta di fare i bravi ok ok ora andiamo a fare il mondo B laterale prima di probabilmente arrivare alla porta centrale vediamo facciamo salvataggio qua in automatico ovviamente ecco mondo B rivincita con sua sibilanza le vite ovviamente sono molto poche ci sarà sempre bene ah di nuovo questa storia qua con i piatti no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altra specie di bruco. Ok, andiamo a prendere un'altra stella. Ora i mondi, diciamo così, quelli laterali al castello finale di Boswer dovrebbero essere entrambi finiti. 147 stelle. Ok, la porta. E qua cosa c'è? Andiamo a vedere. Lateralmente. Che stronzata stavolta. Todd mi ha fregato. Andiamo a vedere questa. No, qua non c'è. Niente. Ok. 170 praticamente. Quindi ce ne mancano esattamente 23. Quindi qua bisogna recuperarne qualcuna. E stavolta saranno quanto difficili da trovare. Perché me ne mancano esattamente 23. E saranno tutti i cavoli miei. Va bene, con questo video ci salutiamo. Vediamo quello che riusciremo a fare in attesa del livello finale. Ciao a tutti. Ciao.